Pijamasks, il treno scomparso. Amaya è andata alle giostre con i suoi amici Greg e Connor. C'è una nuova attrazione, dice, il favoloso treno volante. Che coda, dice Greg, tutti i bambini vogliono salirci. Sì, ma il treno dov'è? chiede Connor. È sparito, esclamano tutti insieme. Greg però vede delle tracce di rotaie sul terreno. È come se avessero aggiunto dei binari che ora non ci sono più. Treni spariti, binari fantasma, è certamente un malvagio della notte, esclama Connor. Super pigiamini pronti all'azione, di notte salviamo la situazione. È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Greg diventa Gekko, Connor diventa Gattoboy, Amaya diventa Gufetta. Sono i Pijamasks. Gufetta ci tiene tantissimo a salire su quel treno ed è proprio impaziente di ritrovarlo. Andiamo presto al Gufaliante, dice i suoi amici. Aspetta, Gufetta, per seguire i binari è meglio restare a terra, la ferma Connor. Giusto, allora alla Gattomobile. Uh, quanta fretta! A bordo della Gattomobile i super pigiamini sfrecciano per le vie della città. Con la sua super vista, Gufetta riesce a individuare il treno che corre velocissimo. Chi ci sarà alla guida? È Romeo che col treno insegue il suo laboratorio impazzito che sta viaggiando da solo per le strade. Per farlo ha inventato un geniale dispensatore di rotaie che mette i binari davanti al treno e dietro li toglie, quando non servono più. I super pigiamini con un balzo sono sul treno in corsa. Ora devono escogitare un piano per fermare Romeo e riportare il treno alle giostre. Ma per Gufetta è molto difficile tenere a freno la sua impazienza, ha davvero troppa fretta. Romeo intanto cerca di far andare il treno sempre più veloce. Il laboratorio ormai non sembra più tanto lontano da raggiungere. Ragazzi, ho io un piano, dice Gufetta. Fermeremo questo treno una volta per tutte. È il momento dell'eroe! Gatto, tu salta e spezza dei rami. Geko, tu scivola vicino al dispensatore di rotaie. Volando io ti passerò i rami per bloccare il dispensatore e interrompere il binario. Super presaretti, le urla Geko. Super gatto balzo, grita Gatto Boy. Il piano di Gufetta funziona. Il treno si blocca e Romeo è sconfitto. Super pigiamini fate festa. Sarà una bella giornata anche questa! Fine E No